È sempre così state in cucina? Sempre, sempre. E ci credo che mangiano. Un attimo, via. Ciao. Ciao. Alice. Alice. Giorgia. Alice. Anche per voi. L'avete provato il piatto, sì, l'avete provato. Quindi la mamma l'ha mangiato. Tre giorni che mangiamo pasta alla norma. Tre giorni che mangiamo pasta alla norma. Hai capito, passo? Tre giorni che mangiano a casa sta cosa. I seditori, infatti, stanno dormendo adesso perché forse di mangiare tutta sta roba. Andrea Sperelli aspettava nelle sue stanze un amante. Come hai detto Sperelli? Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio. Il piacere. Tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani e il tuo naso. Sai che mi piace quando muovi quella testa Per seguire la musica, per trovare la carica. Sai che mi piaci quando go con quella gonna corta Quando muovi il fisico, per un ritmo isterico che fa Ci giochiamo una pista. Tiri da tre? Tiro prima io? No, no, tiro prima tre. 9-1 Vai, via! Allora, noi abbiamo un congolese, un tunisino, un algerino che entra in un bar. Però è un'altra storia. Storia. La data della presa di Roma nota anche come breccia di Porta Pia. Marco Polo. 1.870 Sì. Abbiamo finito? Mi sa che abbiamo proprio finito. Ma chi ha vinto allora? Il Marco Polo ha vinto! Ciao a tutti!